Allora, possiamo riprendere questo esercizio e lo dobbiamo completare nelle parti che risultano relativamente più facili. Prima di andare sulle parti precedenti volevo solo fare un piccolo commento sul fatto di aver scelto giocata 1 e giocata 2 come modalità di rappresentazione dell'informazione sulle due giocate dei giocatori. Se forse avessi scelto valore 1 e seme 1 e valore 2 e seme 2 sarebbe stato più facile e più chiaro sotto perché qui avrei scritto if seme 1 uguale a briscola e seme 2 uguale a briscola, seme 1 uguale a 2 e così via e qui avrei scritto find di valore 1 e find di valore 2. E' la stessa cosa ovviamente, però se io vedo giocata di 1 o giocata di 0 può non essermi immediatamente chiaro cos'è lo 1 e cos'è lo 0, c'è il primo e il secondo carattere che cosa rappresentano. Se invece li metto in variabili il cui nome è più chiaro è anche più facile per me sia scrivere che ragionare che leggere sul codice. quindi corsendo di poi forse se avessimo scelto questo modo di rappresentare l'informazione separando valore e seme probabilmente sarebbe stato meglio rispetto a ciò che abbiamo fatto dal punto di vista della semplicità della chiarezza del codice, poi ovviamente non cambiava nulla, assolutamente. Ok, detto questo e ricordandoci che ci siamo salvati la vita riordinando questa stringa, perché altrimenti se volete quando avete una notte insonne a provare a farlo facendo tutti i casi particolari vedete quanto si dipana la matassa. Veniamo alle parti che mancano. Allora, la prima cosa che dobbiamo sostituire a briscolo uguale c che mi dà in modo cablato sempre cuori, un valore casuale. Un valore casuale che può essere un valore tra 0 e 3, perché se genero un valore tra 0 e 3 lo posso usare brutalmente come indice dentro la stringa semi e vado a prendere il carattere di indice 0, 1, 2, 3. Ok? Quindi posso usare il valore, diciamo così, chiamiamolo valore, chiamiamolo casuale. Casuale uguale random e random ovviamente lui mi dice che non esiste, perché devo importare la funzione random. Quindi con questo autocompletamento che mi dà PyCharm lui mi scrive automaticamente l'istruzione di import, se no la scrivo io a mano, però ero pigro, random per 3, per 4, scusatemi, parte intera. Cioè il valore casuale che mi serve che cos'è? Ricordiamoci che la funzione random restituisce un valore casuale uniforme, reale, tra 0 compreso e 1 escluso, valore reale, tra 0 compreso e 1 escluso. Se lo moltiplico per 4, avrò un valore casuale tra 0 compreso e 4 escluso. Se prendo la parte intera, avrò 0 se il valore casuale era tra 0 e 1, 1 se il valore casuale era tra 1 e 2, 2 escluso, 2 se il valore casuale era tra 2 e 3, 3 escluso, 3 se il valore casuale era tra 3 e 4 e 4 ovviamente escluso. E quindi ho un intero che può assumere equiprobabilmente, con uguale probabilità, i 4 valori 0, 1, 2 e 3. E questo è il modo più semplice per generare un numero casuale intero tra 0 e quello che ci serve. Volendo c'è anche la funzione runDint che anche qua chiediamo di importarla e runDint che cosa fa? Se ci vado sopra mi dice runDint riceve due valori a e b, che sono due interi e ritorna random integer, numero intero casuale ritorna un valore casuale intero nel range da a a b, intero quindi non con numeri reali, no? Includi estremi in cui entrambi gli estremi sono compresi che poi è la stessa cosa cioè io scriverei 0, 3 qua fanno esattamente la stessa cosa queste due espressioni se c'è runDint, mi ricordo che c'è lo posso usare perché tanto mi servono degli interi se non mi ricordo, ricordiamo che la funzione base è random e una volta che ho la funzione random posso moltiplicarla sommarla, eccetera, per poter trasformare dal range 0, 1 che è l'intervallo di base al range qualunque che mi interessi Anomalia, questo runDint a differenza dell'operazione di slice dove c'è valore iniziale e valore finale e il valore finale sempre escluso in questo caso il valore finale è compreso questo spicchio un po' perché uno deve ricordarselo perché è un caso particolare però è la stessa cosa sono equivalenti mettiamo la seconda se vogliamo dimmi allora è vero che quando io ho dato le carte ho scelto il seme in qualche modo ho una carta in meno e quindi le probabilità non sono più uguali ma attenzione nel momento in cui metto il seme è la prima operazione che faccio quindi possono cambiare probabilità delle altre carte non di quella lì la scelta del seme è comunque casuale tra l'altro nella briscola quella carta lì la giochi anche alla fine è l'ultima carta del mazzo che giochi quindi però può cambiare la probabilità di estrarre i semi delle altre carte ma noi non stiamo modellando il mazzo è lui che condiziona le altre probabilità non il contrario ok questo qua è un numero tra 0 e 3 però a me serve un seme ma l'abbiamo scelto tra 0 e 3 proprio perché il seme di briscola lo posso prendere semplicemente semi di casuale visto che i semi sono le quattro caratteri della stringa casuale ho estratto a caso un indice da 0 a 3 valido per indicizzare un singolo carattero all'interno di quella stringa vediamo se va se fa quello che pensiamo la briscola per questa mano è F ok riavviamolo C riavviamolo F Q F prima o poi mi darà anche picche spero però stiamo qua finché non ci dà picche non mi dà picche ma perché insistevo sul picche? perché è l'ultima e allora sai magari sbaglia a fare la parte intera magari sbaglia a fare l'attondamento il primo e l'ultimo sono sempre i più critici voglio vederli uscire se me ne fosse mancato uno in mezzo pazienza se me ne fosse mancato l'ultimo potevo aver sbagliato appunto se il 3 è compreso o il 3 è escluso magari avevo usato in modo sbagliato la funzione e quindi l'ultimo non sarebbe mai uscito quindi adesso abbiamo dimostrato che tutti i 4 se mi escono prima di dire che escono in modo equiprovabile dovrei starli magari 10.000 volte e contare le frequenze ma non è il massimo dei divertimenti per oggi e quindi il punto 1 si risolve qua ci sono casi particolari ci sono degli if ci sono dei controlli da fare no siamo noi che generiamo un valore come ci piace controlliamo che valore generiamo andiamo a pescare una lettera finito se non ci fossimo ricordati o non avessimo pensato che potevamo indicizzare semplicemente una stringa a questo punto avremmo fatto 4 if if causale uguale 0 briscola uguale c l if casuale uguale 1 briscola uguale f e così via vabbè erano 4 righe di if che ci siamo sfangati avendo definito questa stringa di nuovo coseno di poi aver definito queste due stringhe qua è stata forse l'idea migliore della giornata ok giocata dei giocatori allora dobbiamo leggere la giocata del giocatore e l'abbiamo già fatto dobbiamo controllare normalizzare e controllare questo dato normalizzare perché il testo dell'esercizio ci diceva guarda che il giocatore può scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo ma noi la codifica dei semi e delle carte ce l'abbiamo internamente interprogramma solo in maiuscolo e quindi la prima cosa da fare è dire ok prendiamo sta roba mettiamola in maiuscolo poi magari togliamo degli spazi togliamo tutto ciò che non allora io direi che giocata 1 lo metto in maiuscolo ripulisco gli spazi iniziali e finali e così posso andare avanti attenzione che questo non fa nulla questa istruzione che ho scritto non fa niente o meglio costruisci una stringa maiuscola ripulita dagli spazi ma poi questa stringa la dimentica la butta via perché non l'ho memorizzata da qualche parte tutti i metodi che manipolano le stringhe non modificano mai la stringa stessa ma restituiscono un altro valore che se voglio posso sostituire alla stringa precedente ma è un altro valore e se mi dimentico di fare giocata 1 uguale calcola una stringa e la butta via e la mia stringa di partenza rimane invariata ok quindi abbiamo fatto un po' di pulizia e adesso verifichiamo che lui abbia scritto effettivamente 7 di cuori e non 9 di x quindi devo verificare cosa che il primo che è giocata sia una stringa di due caratteri dopo che lo ripulite tutto il primo carattere sia un valore il secondo carattere sia un seme se giocata 1 la lunghezza è di due caratteri l'end giocata 1 uguale a 2 è la prima condizione deve essere di due caratteri e il primo carattere deve essere un valore quindi giocata 1 di 0 in valori deve essere uno dei caratteri della stringa valori e il secondo carattere deve essere un seme mi sembra che se sono verificate queste tre condizioni sono a posto posso giocare se almeno una di queste tre non è verificata purtroppo la giocata non è valida però questa if scritta così mi incasina un po' perché dice if è valida se è valida cosa devo fare devo andare avanti fare il resto del programma se non è valida devo interrompere il programma quindi mi conviene magari scrivere la if al contrario se non è valida interrompo il programma altrimenti prosegui normalmente allora devo scrivere una condizione opposta a questa allora qual è un modo per scrivere una condizione opposta a questa beh il modo più facile è questo ci metto un noto se non è vero che ci sono le tre condizioni per rendere una giocata valida l'altro modo di scrivere la condizione opposta adesso mi riprendo quella di prima è di invertire tutte le clausole quindi anziché dire se la lunghezza è 2 dico se la lunghezza è diversa da 2 non va bene se anziché dire la giocata il valore è nei valori dico il valore non è nei valori quindi basta che io posso invertire tutte le singole condizioni le clausole anziché in scrivo not in e giocata u è il seme not in semi quindi in questo caso vado a catturare le tre sotto condizioni che mi rendono la giocata non valida e poi devo prendere quegli end e far diventare or perché scritta così con gli end mi considero la giocata non valida se la stringa di lunghezza è sbagliata e anche il seme è sbagliato e anche il valore è sbagliato proprio una roba proprio sputtanata al massimo invece basta che una sola delle tre sia sbagliata per farmi dire che la tua giocata è sbagliata quindi in questo caso queste condizioni devono essere almeno una di queste normalmente quando io questa è la legge di De Morgan quando nego una combinazione di condizioni devo negare invertire ogni singola clausola e poi modificare l'operatore logico da end a or o da or a end e viceversa per avere lo stesso risultato queste due sono equivalenti quindi tenetevi quella che vi piace di più che vi sembra più intuitiva se non è vero che la giocata è buona quindi la giocata è sbagliata io posso interrompere il programma dicendo giocata mettiamo un f string giocata giocata 1 non valga e il programma esce si interrompe else non c'è un else perché se non fa l'exit continua con il resto del programma per quello che ho preferito mettere la condizione al contrario perché l'azione da fare è se c'è un errore se invece non c'è l'errore il programma prosegue normalmente e ovviamente sul secondo giocatore dovremmo fare la stessa cosa quindi queste stesse righe le ricopio qua sotto e poi con tanta pazienza e tanta attenzione non distraetevi in questo momento dovete portare gli 1 in 2 ma solo quelli giusti perché questo 1 qua non deve diventare un 2 e sul giocatore 2 facciamo la stessa cosa che facevamo sul giocatore 1 e vi richiamo primo giocatore 4 di picche lo scrivo apposta minuscolo e ho sbagliato scrivere trim perché si chiama strip e me lo dice anche lui nel messaggio d'errore scusatemi confondo in metodi di linguaggi di programmazione diversi trim è la funzione che si usa in javascript non in python 7 di picche secondo giocatore 4 di fiori se li scrivo giusti vedete che mi l'ha messi in maiuscolo e ha determinato il vincitore se li scrivo sbagliati quindi non è 7 di picche ma 7 di u mi dice che la giocata 7 u non è valida se io scrivessi semplicemente 8 giocata 8 e non è valida per vari motivi questa giocata 8 sia perché il valore è sbagliato ma soprattutto perché la lunghezza della stringa è sbagliata quindi se io facessi 4 che è un valore giusto ma la giocata è comunque non valida perché non ha due caratteri tra l'altro ne approfitto per ragionare su questa condizione che abbiamo scritto qui o qua ho scritto giocata 1 di 1 in semi cioè il secondo carattere è dentro la stringa semi ma chi mi dice che il secondo carattere c'è davvero chi mi dice che il secondo carattere esiste che la stringa non è più corta di due caratteri me lo dice la prima clausola di questa IF che prima verifico che la lunghezza sia due solo dopo che so che la lunghezza è effettivamente due vado a vedere allora il primo carattere com'è e allora il secondo carattere com'è perché se io provassi a dire questa condizione sulla lunghezza la metto in fondo starei cercando di accedere alla prima posizione e alla seconda posizione della stringa quando non sono ancora sicuro che queste posizioni esistano e me ne accorgo subito perché se questo giocatore è uno non è solo modificato se il giocatore fa una giocata valida tutto bene ma se il giocatore gioca solamente quattro che è una giocata non valida anziché un messaggio d'errore ben educato mi spara un errore in python perché mi dice guarda che io string index out of range stai cercando di usare un indice in una stringa e questo indice è lì fuori del range della stringa stessa tipicamente qua sarà non me lo dice ma è qua quando ho fatto giocata di uno il secondo carattere non c'è perché la stringa è lunga solo uno io poi lo controllo che la stringa sia lunga due ma dopo dopo che ho già fatto il danno ok quindi questo ci fa capire che le espressioni logiche complesse vengono valutate normalmente da sinistra verso destra e non appena lui si accorge che l'espressione che può determinare il valore dell'espressione si ferma con le scorciatoie che dicevamo prima a cui accennavo prima non abbiamo proprio spiegate bene ma non tutte per cui messa così cosa succede che se la lunghezza è due questo pezzo sarà true e allora l'ende per potermi dare una risposta deve valutare il resto ma se questa lunghezza non è due questo pezzo qua di espressione è falso falso and qualunque cosa fa falso quindi lui tratta tranquillamente questa tutta l'and dice non devo nemmeno guardare il resto so già che fa falso il risultato e quindi non tenta nemmeno di accedere alle stringhe che poi non ci sono in realtà ai caratteri che non ci sono perché non appena nella valutazione da sinistra verso destra trova le informazioni che gli servono per capire qual è il valore finale ovviamente non perde tempo a guardare gli altri valori e questo lo usiamo parecchio nelle controlli di questo genere prima controllo la lunghezza poi controllo il contenuto prima vedo se c'è e poi vado a vedere come è fatto e posso farlo in un'unica istruzione proprio grazie a questa valutazione a cortocircuito dei booleani quindi non è un caso averla scritta in questo modo ma come sempre conviene sempre ragionare sai dall'alto verso il basso dal macro verso il micro prima vediamo le cose grosse sta stringa c'è ok se c'è andiamo a vedere com'è fatta piuttosto che non partire dal dettaglio anche come metodo di ragionamento si applica allo stesso modo e il linguaggio ci aiuta ovviamente a gestirlo correttamente quindi questa giocata 8 non valida me lo dà non valida perché questo era falso non perché questo era falso è falso anche il secondo ma lui non neanche ha guardato non ci è arrivato a guardarlo perché ha già capito prima cosa che tutta questa espressione questa concatenazione di end era falsa ovviamente questo qua vale falso note di falso uguale vero e se è vero fai la exit e interrompi il programma adesso interrompi il programma appunto è una soluzione un po' brutale un programma un pochino più educato dovrebbe dirmi guarda che 8 non è una giocata valida per favore riprova no dovrebbe essere un minimo più tollerante ma noi non sappiamo ancora fare questo per favore riprova perché ci richiederebbe di tornare indietro e ripetere l'emissione dei dati che è il prossimo argomento che affrontiamo tra due minuti dimmi su python non esiste il goto ma ci sono tutti costrutti per i cicli che adesso se non ci sono altri dubbi su questo esercizio o domande o curiosità passiamo ad aprire questo punto questo è un programma un po' limitato uno perché in fase di input è abbastanza antipatico e due perché dopo che ho giocato una mano mi piacerebbe giocare quella dopo eccetera eccetera in modo da tenere traccia dei punti allora noi non sappiamo ancora fare due cose una è ripetere fare in modo che il programma non termini quando ha fatto una cosa ma vada avanti ripetendo lo stesso più e più umani e questo lo impariamo tra un attimo iniziamo a imparare tra un attimo e l'altra cosa è tenere traccia degli elenchi di oggetti tipo quali carte del mazzo sono già uscite e quali no cioè non è che puoi ad ogni mano giocarmi l'asso di briscola se ce l'avevi ce l'avevi una volta sola e quindi devo tenere traccia delle carte che devono ancora uscire e quelle che invece sono già uscite per farne un controllo in più dimmi è vero è vero se i due utenti hanno giocano la stessa carta cosa che nella realtà ovviamente non succede perché c'è un vincolo fisico la carta o ce l'ho io o ce l'hai tu non avrebbe senso quindi il programma non deve continuare quindi giustamente c'è un'anomalia che non abbiamo controllato anche perché se giù se il codice arriva con due carte uguali devo dire che onestamente non so cosa dice ma giustamente non deve arrivare con due carte uguali è un dato sballato e allora dopo aver fatto questo devo dire vabbè un modo di poter dire ok or giocata 2 uguale a giocata 1 quindi questo mi cattura questo altro caso quindi io interrompo il programma se la carta che mi hai detto è sbagliata o è giusta ma è uguale a quella dell'altro allora in questo caso alla parte di algoritmo facciamo arrivare solo le due giocate corrette giocata 1 e giocata 2 che sono corrette e diverse tra loro è una promessa che le parti alte del programma fanno la parte bassa dimmi no sono due cose diverse allora innanzitutto sono due livelli due ripetizioni diverse una potrebbe essere io dico di aver giocato una carta e tu mi decidi di aver giocato la carta stessa quindi l'altro giocatore è nella stessa mano questo chiaramente non è possibile l'algoritmo non lo considera perché non è una condizione fisicamente realizzabile e quindi è un errore da trattare l'altro quello che dicevo prima è se io giocando più mani dicessi più volte la stessa carta quindi il giocatore 1 e il giocatore 2 hanno carte diverse ma il giocatore 1 ripete tenta di ripetere una carta che aveva giocato prima in questo caso dovrei però avere un modo per ricordarmi quale carte ho giocato allora su questo si può ragionare ovviamente quando avremo dei meccanismi per gestire il mazzo adesso questo qua non lo possiamo fare è un controllo che non siamo in grado di fare il programma a parte infatti lo diceva subito il testo gioca una mano non una partita per passare da una mano a una partita ci ritroviamo tra tre settimane e la facciamo perché no ok chiudiamo questo allora e iniziamo ad aprire visto che ci è venuto l'appetito sicuramente quello del pranzo ma anche quello dei cicli ci siamo accorti che ci sono dei punti in cui il programma pur interessante è un po' limitato perché poverino ci mettiamo più tempo a scriverlo che a eseguirlo perché una volta che l'ho eseguito una volta è arrivato in fondo finisce mentre la maggior parte dei programmi in qualche modo li attivi e poi ci giochi una partita intera e allora impariamo come implementare anche in Python il costrutto iterativo cioè il ciclo il fatto che un programma che abbiamo già visto nei diagrammi di flusso il fatto che il programma possa tornare indietro e ripetere cose che aveva già fatto ok in Python esistono due istruzioni diverse due costrutti per creare dei cicli che si chiamano costrutto while e costrutto for il costrutto while è estremamente simile al costrutto if nel senso che semplicemente ha bisogno di una condizione booleana una condizione logica ed è il più generico il più generale quindi partiamo da quello il costrutto for invece è un costrutto un pochino più articolato è un caso particolare e lo vediamo poi dopo quindi partiamo dal while allora un'istruzione if cosa fa? un costrutto if cosa fa? valuta una condizione booleana se è vera esegue il blocco lasciamo perdere gli else gli elif e poi e poi va avanti il costrutto while cosa fa? valuta una condizione booleana se è vera esegue il blocco e fin qui è uguale e poi anziché continuare ritorna su ritorna a rivalutare la condizione e se è vera a rieseguire il blocco e dopo che l'ha fatto ritorna a rivalutare la condizione e se è vera a rieseguire il blocco e quindi come una if che si chiude su se stessa dopo che ha fatto se ha trovato il valore vero chiaramente continua ad eseguirlo mentre la if lo esegue o zero o una volta ma se lo esegue una volta poi va avanti il while lo può eseguire più volte e quando è che smette di girare? quando questa condizione non è più vera quando diventa in qualche modo falsa quindi a livello di diagramma di flusso stiamo implementando una cosa di questo genere a un certo punto c'è una condizione una condizione booleana a maggiore di b i minore di 7 qualcosa di questo genere se questa condizione è falsa come se fosse una if falsa non fa nulla e va avanti se questa condizione è vera invece esegue il corpo indentato dentro l'istruzione while e dopo che ha finito la differenza è che dopo che ha finito di eseguire il corpo anziché andare avanti torna indietro torna indietro ovviamente prima della valutazione della condizione in modo che questa condizione possa essere rivalutata più volte devo fare attenzione ovviamente che questo giro qua non va davanti all'infinito cioè questa condizione prima o poi deve diventare falsa per permettere il programma di andare avanti di terminare e questo ovviamente dipende da noi come costruiamo questo proviamo a vederlo sapete avete ormai capito che a me piace fare esempi diversi da quelli che troviamo sulle slide perché con i slide li potete anche guardare e così ne vediamo degli altri insieme da ragionare partendo anche da quello che abbiamo appena fatto pensiamo a questo pezzo qua che abbiamo appena detto sarebbe tanto bello che se l'utente inserisce qualcosa di sbagliato io glielo richiedo adesso non andiamo a toccare questo programma che è già complicato facciamo un altro micro eserciziamoci nel piccolo chiamiamo un programma leggi dato in cui voglio leggere un dato dall'utente e diciamo che l'utente deve inserire invento una stringa di quattro caratteri ok quindi l'utente deve inserire una stringa di quattro caratteri quindi noi cosa faremo s uguale input stringa dall'utente stringa stringa e poi vado a controllare se la lunghezza di s è uguale a quattro questo è quello che sapremo fare se è uguale a quattro va bene se è diverso da quattro errore se è diverso da quattro cosa potremmo dire ma caro utente non va bene dammene un'altra riprova cosa ho fatto qua se s la lunghezza è uguale a quattro non fa questa if qui c'è un diverso l'ho modificata qui ho messo un diverso quindi se s ha la lunghezza giusta è valida vai avanti se è sbagliata richiedimela riproviamoci con questa nuova stringa che però può essere anche essa a sua volta giusta o sbagliata quindi dovrei iterare di nuovo se anche questa lunghezza di quest'altra stringa fosse diversa da quattro allora te la richiedo per una terza volta print errore te la richiedo per la quarta volta chiaro che il mio livello di amicizia nei tuoi confronti via via diminuisce però devo darti la possibilità di riprovare allora capite che questo qua non è tollerabile io ho quello che no non posso andare avanti all'infinito facendo if annidate sperando che alla 270esima volta lui inserisca una cosa di lunghezza a quattro cioè funziona ma non è pratico allora ciò che posso fare invece è usare appunto diciamo il costrutto while che dice se la lunghezza di questa stringa è diversa da quattro stampa errore rileggi la stringa e dopo che hai letto la stringa ritorna a controllare questa condizione adesso lo vediamo passo passo ovviamente devo leggere la stringa una volta all'inizio prima fatemi commentare questa parte e proviamo ad andare avanti passo passo su quest'altra in debug quindi quando il programma parte arriva alla prima istruzione c'è una input va bene facciamo eseguire la input clicco sul bottoncino per andare avanti qui a fianco il debugger mi lascia lo spazio per dire il valore la stringa t invio stringa t tutti sanno che t ha lunghezza 1 e non ha lunghezza 4 questa condizione la lunghezza di s 1 è diversa da 4 sì allora l'istruzione while decide di entrare ed eseguire il corpo del ciclo il suo corpo ok quindi fin qua è come se fosse stata una if sarebbe comportata nello stesso modo e quindi esegue le istruzioni che ci sono dentro tra cui stampare errore e me lo stampa qua nella console e poi ripetere la lettura della stringa questa volta sperabilmente corretta adesso rimetto un'altra stringa la sbaglio di nuovo apposta ma quello che è interessante è cosa farà il programma dopo che ho letto la stringa vedete che la linea blu non va avanti ma torna indietro quindi metto un valore di nuovo sbagliato questa volta mi sforzo e metto due caratteri la stringa è tt e il codice a cosa ha fatto sono arrivato alla fine del blocco rientrato dello statement composto rientrato sotto il while e la regola del while mi dice dopo che sei arrivato in fondo ritorna su ritorna non alla prima istruzione dentro il blocco ma ritorna al while stesso e quindi andrai a ricontrollare di nuovo quella condizione che a questo punto lavora con una variabile diversa cioè no la variabile è sempre s con un valore diverso della variabile che nel frattempo nel corpo del ciclo ho fatto un'altra input e quindi ho sostituito il valore precedente sicuramente sbagliato sicuramente sbagliato col valore nuovo sbagliato o giusto devo verificarlo e in questo caso sarà di nuovo sbagliato quindi lui di nuovo entrerà eseguirà tutto il corpo del ciclo e quando arriverà in fondo tornerà su a rivalutare quindi l'unico modo perché io possa uscire da questo circolo è quello faccio la input se mando una stringa vuota per dire questa volta l'nds è stringa vuota l'nds sarà 0 e quindi mi stampa di nuovo errore e da qua non esco fin tanto che non metto effettivamente una stringa di 4 lettere 4 simboli allora in questo caso l'nds è 4 4 non è più diverso da 4 e il programma in questo caso termina termina perché non c'è più nulla da fare sotto non ho altre istruzioni sotto altrimenti eseguirebbe le istruzioni che ci sono sotto quindi in questo caso abbiamo un programma che si intestardisce legge un dato se questo dato non va bene lo rilegge e lo rilegge e lo rilegge fin tanto che while finché quel dato non diventa valido questo è un meccanismo la cosa importante qual è? due cose a cui bisogna fare attenzione una è scrivere la condizione nel verso giusto questo è un diverso e non un uguale perché nel caso in cui sono diverso che devo continuare a ripetere facciamo attenzione perché in italiano non lo diciamo al contrario ripeti finché trovi la stringa di lunghezza 4 perché noi a parole finché descriviamo come fare a uscire ad andare avanti invece qua finché è più un mentre fin tanto che no niente in italiano è ambigolo comunque non dobbiamo scrivere la condizione per cui non devo ripeterlo perché il dato faccia bene ma la condizione per cui devo ripetere un'altra volta il ciclo per questo aiutarci a pensare come se fosse una if cosa farebbe farebbe quel corpo se la condizione fosse vera quindi finché la condizione è vera quando la condizione è vera il corpo viene continuamente eseguito quando la condizione diventa falsa non viene più eseguito il corpo quindi a volte se uno traduce diciamo così dal pensiero dall'italiano rischia di mettere la condizione al contrario falso finito vero continuo l'altra cosa fondamentale è che dentro il corpo ci sia qualcosa che abbia il potere di modificare questa condizione cioè se io mi dimenticassi questa input oppure semplicemente anziché S la chiamassi S2 non riuscirei a uscire mai da qua metto una stringa sbagliata R errore ok metto un'altra errore ma questo l'abbiamo già visto adesso esco ne metto una di 4 e continuo a non uscire ma come l'ho messa da 4 l'ho messa giusta un 2 3 4 e non esco perché non esco perché in realtà dentro il ciclo ho modificato un'altra variabile che non c'entrava niente S2 ma non ho modificato nulla che potesse influenzare questa condizione perché S è stata assegnata nella riga 12 una volta prima del ciclo quindi quella istruzione lì alla riga 12 è stata segnata una volta sola col primo valore che ci ho messo dentro e poi lui ad ogni interazione continuerà a confrontare la lunghezza del primo valore e quello lì non cambia più se non lo cambio dentro il ciclo non può cambiare da solo quindi è fondamentale che dentro il ciclo ci siano le istruzioni che permettono a questa condizione prima o poi di diventare falsa ok altrimenti se ci entro dentro una volta non ci esco mai l'altra cosa qui ci rimetto la S e stoppo il programma l'altra cosa che vediamo è che questa S in questo caso può essere il valore che ho letto alla riga 14 ma può anche essere il valore che ho letto alla riga 11 quando io arrivo alla riga 12 la prima volta che ci arrivo questa S è questa le volte successive che ci arrivo è questa S che viene usata in questo land è sempre la stessa variabile chiaramente l'ultimo che la toccata gli assegna il valore che verrà utilizzato nella votazione della condizione la condizione booleana questo per dire che la variabile viene prima inizializzata questa S in questo caso è una variabile che chiameremo variabile di controllo del ciclo cioè una variabile il cui valore controlla attraverso un'espressione booleana se il ciclo viene eseguito oppure no ogni ciclo deve essere controllato da una o più variabili variabili non costanti perché prima devono essere un po' vere e poi devono diventare false quindi ogni ciclo è governato controllato diciamo da una variabile per semplificare questa variabile deve essere deve sempre se no vuol dire che è benificato un pezzo inizializzata prima di entrare nel ciclo quindi quando arrivo alla istruzione while quella variabile deve avere un valore iniziale deve averla definita e averli dato un valore compatibile con l'inizio del ciclo e aggiornata dentro il ciclo devo modificarlo dentro il ciclo modificarla in modo che prima o poi renda la condizione falsa quindi in questo caso la variabile s viene inizializzata nella riga 11 testata valutata nella riga 12 e aggiornata nella riga 14 altro esempio che non abbia a che fare con la input facile facile numeri da 1 a 10 facciamo un programma che stampa i numeri da 1 a 10 chiaramente non ci mettiamo a fare print 1 print 2 print 3 print 4 print 5 no? scrivere 10 righe quando ne posso scrivere di meno è incompatibile con la regione degli informatici che è la pigrizia stampo i numeri da 1 a 10 significa stampare ripetere 10 volte l'operazione in cui si stampa un numero quindi il cuore dell'operazione che devo fare qual è? print dn dove n è un numero io questa operazione non voglio fare 10 volte con 10 valori diversi devo farla 10 volte con 10 valori diversi dn ma non voglio scriverla 10 volte nel programma allora cosa farò? farò in modo che questa singola istruzione venga ripetuta più volte e ogni volta si trova un valore dn diverso e stamperà quel valore d quindi io partirò dicendo senti partiamo da 1 e cominci a stamparmi 1 ok stampa 1 bellissimo programma poi ripeti ripetilo più volte con valori ogni volta diversi di n quindi però attenzione non metto n uguale 2 perché n uguale 2 varrebbe solo per il secondo valore devo mettere un meccanismo generico per passare da un valore al valore successivo in modo che ogni iterazione prepari il terreno per l'iterazione successiva quindi metterò un n più 1 allora se ho queste due istruzioni posso eseguirle ripetitamente n uguale 1 stampo 1 incremento n poi torna indietro ripeti di nuovo ristampo questa volta n è sempre n ma questa volta vale 2 lo incremento diventa 3 torno su lo ristampo questa volta stampo 3 poi lo incremento diventa 4 e così via per quando per sempre no devo stampare non tutti i numeri naturali ma quelli da 1 al 10 e quindi mi serve una condizione che inizialmente sia vera perché finché il numero è piccolo devo iterare ma quando n quando dopo che ho stampato n diventi falsa c'era una domanda? n più uguale 1 ma hai risparmiato un carattere allora qual è la condizione che mi dice puoi fermarti n minore poi mi dite voi se è minore o minore uguale a 10 se vedete che la condizione n minore di 10 inizialmente quando arrivo lì alla riga 3 per la prima volta è una condizione vera perché n inizialmente vale 1 il valore a cui ho inizializzato n è il valore 1 quindi questo valore rende inizialmente vera la condizione è un ciclo con una condizione inizialmente vera viene eseguito almeno una volta almeno una volta poi quante volte viene eseguita dipende da che cosa ci fa il ciclo a questa variabile n per farla diventare prima o poi maggiore di 10 n minore di 10 vuol dire che se il valore di n è 9 stampa 9 se n fosse 10 questa condizione sarebbe già falsa quindi il valore 10 non viene mai stampato n è il valore che sto per stampare quindi se voglio stampare i numeri a 10 ci metterò un uguale e questo programma stampa i numeri in colonna da 1 a 10 ma questo è l'embrione del ciclo più semplice in cui però riconosciamo sempre la variabile di controllo che è n la condizione di controllo che in questo caso n è minore o uguale a 10 l'inizializzazione della variabile di controllo e l'aggiornamento in questo caso è un incremento numerico della variabile di controllo e poi dentro il vero lavoro che devo fare è questo quindi il vero lavoro che devo fare è quella printly quello che ci sta intorno è una macchinetta un meccanismo per permettermi di ripetere quella volta un certo numero di volte per ripetere quella parte un certo numero di volte che controllo io sotto il mio controllo ok quindi questo è se vogliamo il primo spunto del funzionamento dei cicli wild che ovviamente riprenderemo per bene la settimana prossima in questo laboratorio di questa settimana ovviamente queste cose non ci sono ancora saranno nella settimana prossima e quindi abbiamo tutte le ore della settimana prossima per riuscire a entrare un po' nel dettaglio vi libero adesso buona giornata grazie grazie a tutti